Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. Di spie senza che nessuno venga allertato. Quindi fare il giorno 2 di spie in stealth. Come si fa? Le armi consigliate da me o comunque da qualsiasi altro icer che l'ha fatto sono il Judge e il Thanatos. Avete già visto benissimo il perché. Ci sono più o meno dai 22 ai 30 Cobras che sono questi gangster nella mappa e proprio bisogna fare attenzione che nessuno di questi arrivi ad avere il punto esclamativo sopra la testa. Perché? Perché sennò scatta direttamente l'allarme. Anche perché questo non è ragazzi un giorno che si può fare in stealth. Non è studiato per lo stealth. Però tramite icer che l'hanno fatto, che sono riusciti a farlo, potremo provare o meglio potrete provare anche voi l'ebrezza di fare questo colpo in stealth. Ovviamente è difficilissimo. Come vi ho detto già dall'inizio del colpo. Ed è ancora più difficile se lo si fa da soli. Se lo si fa da soli è veramente pazzesca il livello di difficoltà, il coefficiente di difficoltà. Non tanto per la quantità, perché comunque alla fine sono dai 22 ai 30 gangster, non sono tantissimi. Però per più che altro la posizione in cui si mettono. E soprattutto perché col judge si può shottare solamente un gangster alla volta. Se no si fa così, più o meno. Se invece ce ne sono 4 in fila, come in questo momento, il Thanatos fa per voi. Però attenzione, dovete centrare esattamente, come adesso, il buco in cui ucciderli tutti e 4 consecutivamente. O meglio, contemporaneamente. Perché consecutivamente non andrebbe bene. Quindi, ragazzi, io vi faccio vedere come appunto ho fatto il colpo. E vi faccio anche vedere che abbiamo un piccolo aiuto da parte del gioco. Non succede sempre. A me è successo in questa che state vedendo. È la seconda run che sto facendo. Perché la prima è successo questo. Ho fatto il colpo. Sono arrivato dagli ultimi due gangster, che sono quelli che sto andando a prendere. Praticamente quelli davanti alla macchina, quelli con cui si deve parlare per far lo scambio. Ed è successo che li ho uccisi col Thanatos, quindi tutti e due contemporaneamente. E poi sono andato verso il posto dove stanno loro, dove si sono allertati adesso. La prima volta è successo che li ho uccisi, sono andato lì ed è scattato l'allarme. Stavolta, invece, è scattato l'allarme, ragazzi, vuol dire che non potevo portarvi alla stealth, la missione. Ritorniamo sempre lì alla fine, se avete capito cosa voglio intendere. E in questo caso, invece, ho ucciso il terz'ultimo gangster e gli altri due si sono allertati. Però, stavolta, visto che, a quanto pare, il gioco li considera sì come gangster, però anche come delle guardie speciali, perché nel momento in cui io vado a parlarci, quindi a fare lo scambio, parte, diciamo, una frase o delle frasi predefinite che devono dire loro e fanno determinati movimenti. Quindi, secondo me, il gioco li ha determinate come guardie speciali e si sono allertate, ma senza far scattare l'allarme. Comunque, ragazzi, questo era, diciamo, una delle più difficili sfide di Pvd2, da fare, ovviamente, in stealth, perché, ripeto, non è un giorno da fare in stealth. Spero vi sia piaciuto, che vi sia servito. Iscrivetevi, commentate e mettete mi piace. Ciao a tutti! Ciao a tutti!